Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, è successo. Quando? Se possiamo. Un annetto fa? Un annetto fa. Con chi? Se dice. Vabbè, se ti dice un nome... No, almeno la rappresentazione idiomatica del suo volto. Scusa? Io, spiegatemi come funziona Twitch, perché io mi sento handicappata. Cioè, proprio non so niente di Twitch. Zero. Zero. Rimane, giura. Certo. Giuro, giuro. Certo, certo. Ieri ho dato un esame, oggi ho dato un altro. Bomba, brava. Come sono andati? Boh. Vabbè, lo saprai. Se sei fatto scena muta o no. No, no, erano scritti. Ma non ti puoi collegare dai computer? In che senso? No, sì. Sai che ho un punto debole? Che cosa? Le donne? Eh, vabbè... Non bastare. Ti dico il nome che ho pensato? Vai. Georgia Yin. Non so perché ho detto Georgia Yin. Georgia Yin, influencer della Stardust. Sì, ho proprio pensato a... No, in realtà non è vero, non ha pensato a nessuno. No, ha pensato solo a Georgia Yin. A Georgia Yin? Ragazzi, scrivete a Georgia Yin che Simo ha una crush per lei. Ma non è vero. Vabbè, una bella ragazza, non è più di bella ragazza nel mondo. Dai, Georgia Yin, vieni in live da me. Dolci. Bene, bene. Agnese? Ma secondo me è un mix, perché secondo me ti annoi con entrambi se non c'è... C'è uno troppo dolce, uno troppo stronzo, alla fine ti stanchi. Un mix. C'è uno che non ti assecondi sempre, però che non ti tratti male, comunque. Ok. Vi piace il tossichello? No. Carlotta? Se uno ti guarda e si fa una bella striscia davanti a tu e ti dice... It's not good. It's not good. Ci mancherebbe. Assurdo. Oh. Vabbè, niente. No, no. Io sto stagendo. No, no. Io sto stagendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Questo è Twitch, sai cos'è Twitch? Più o meno. È una piattaforma di video streaming. C'aveva proprio un odore di mi nonna. Sembrava che mi stavo a scopare mi nonna. Ah. Quindi non è stata una bella performance. Assolutamente no. Poi... Vabbè. Poi? Devo proprio essere... Posso essere sincero proprio spontaneo. Siamo qua per questo. Ok. E... Insomma, non gli si lubrificava la vagina. Ma... Hai provato con lo sputo? No, certo che sono piano. Ma stavo scherzando. Ma ho sbagliato a parlare, papà. Ma non volevo dire che mi hai dato una puttana. Ma figurati. No, no. cosa ti ha scritto? Perché non dici che la puttana che ti ha creato? No. E anche quella che ti da vestire pulisce casa sbronzo alle sei sera. Mi sto vergognando di te come mai fino ad ora. E ce le vuole. No. Ma dai, papà, sto benissimo. Che roba altro. Miriam calpesta. Calpestalo, calpestalo. Grande donna Miriam. Grazie, amore. Non devono essere calpistati questi nomi. Volete dare i vostri Instagram? No, però può essere una bella idea. Ok, ok. Giadi, prego. Vai tu. No, io non ho domande. Una domanda è vostro onore. Una domanda è vostro onorissimo. Hai un tatuaggio di Louis Vuitton? Devo caricare delle storie, scusate. Ma se un giorno... Oh, Letizia è tornata. 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 Stiamo parlando di una nostra amica con un nome bellissimo che amo, ma che non ricordo. No, solo un attimo. Ok, perché c'è lagging nel sistema? No, lagging, 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 lagging. E' un suo scritto. E' un suo progetto. E' un suo progetto. E' un suo progetto. E' un argomento. va bene cosa c'hai una domanda cosa c'è oddio bravo bravo grande bro grandissimo simpatico con un dito nel culo che ti perfona bravo te l'avevo detto ragazzi vi prego entrate se avete bisogno di raccontarvi un vostro problema amoroso che ci sono qua tre ragazze bellissime e bravissime che vi daranno dei consigli poi c'è anche Jody quindi mi raccomando scrivete ad alfelix in chat su instagram per entrare adesso ve lo metto anche a schermo così almeno non ci sono problemi di ma porca puttana scusate stume perché voi avete probabilmente fa caldo immagino avete una grande passione per il mare si però non mi abbronzo siete sbronze? non mi abbronzo quanti anni avete ragazze? io 21 2001 che anche io bomba tu 25 io quanti anni ho? lui quanti anni ha secondo voi? io c'era la mia sosia oddio solo io sì siete uguali incredibile vi state simpatiche così a pelle? oppure vi state sul cazzo? beh dai certo non posso costarsi sulle balle incredibile potete diventare i migliori amiche e lo giuro che sta foto fa paura perché vabbè da così non sembra ma io ho esattamente questo profilo incredibile incredibile veramente incredibile provate avete un po' voi da dove siete? abbiamo il cazzettino 801 vabbè troppo segnato è pubblico ah lo ce l'hanno tutti? sì sì tutti quanti ce l'hanno è un numero mio ormai ce l'hanno ce l'ha mezzo milione di persone tutti quanti ce l'hanno tu sai Matteo che questa cosa è bannabile vero? è il mio numero ma non è il tuo numero Matteo hai sparato un numero a caso 333 70 18 101 ok ok Lucia guess the age Lucia sei voi se no non fa niente ci sei Lucia allora ha capito Lucia indovina l'età mia che mi chiamo Jody l'età sua che si chiama Simone l'età di Paolo Cannone che si chiama Paolo Cannone Paolo allora questi due entrambi 21 mi chiamo allora no 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 infatti no ha detto tranne questo no 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 infatti noi denunciamo qualsiasi tipo di cosa hai bro hai il caricatore usbc dell'iCos cosa è successo? no stavo capendo se c'è la il direttore lo chiede no si no stavo capendo